Desidero concedervi l'umiltà. 20 marzo 1972. Figli miei cari, voi non conoscete sosta nella vostra preghiera, ed io non conosco sosta nel darvi il mio amore e le mie grazie. Questi giorni che vi separano dalla festa del Divino Annuncio devono essere veramente giorni di grazie. Io desidero concedervi le virtù che vi rendono più graditi a Dio e più santi. Tra queste, la principale è la virtù dell'umiltà che è come la base di tutte le altre. Vi otterrò che voi siate umili nei vostri pensieri, affinché vediate sempre come siete insufficienti anche per voi stessi. Vale a dire che non potete nulla senza che il Buon Dio vi doni il suo aiuto e la sua grazia. Vi donerò l'umiltà di cuore, perché nei vostri affetti abbiate a lasciarvi guidare dagli insegnamenti del mio Gesù, dando a Dio il primo posto, e agli altri, cioè al prossimo, il secondo posto e abbiate a considerare voi stessi gli ultimi, affinché siate considerati i primi nel Regno dei Cieli. Vi otterrò di essere umili nel comportamento e nelle parole, per cui nessuno abbia a soffrire per causa vostra. Figli miei diletti, siate piccoli, perché la vostra mamma celeste possa tenervi fra le sue braccia e così, come su un ascensore, voi possiate salire in alto giorno per giorno, sino a raggiungere la vetta. Figli, vi benedico tutti, donandovi un abbraccio. Quando mi volete fare un dono gradito offritemi un atto di umiltà, o accettate volentieri una umiliazione. Ve ne sarò grata e pioveranno le grazie, poiché chi si umilia sarà esaltato.